Creare una scuola a misura duomo e di paesaggio, rendere l'edilizia scolastica sempre più sicura e adeguata al paesaggio con il quale viene a contatto. Questo è l'obiettivo di Idee e Progetti per la Scuola del Futuro, una mostra allestita nel Palazzo della Provincia di Potenza in Piazza Mario Pagano. Attraverso una serie di pannelli esposti nei diversi ambienti della sede provinciale, ci si aggiorna su quelli che sono i progetti in embrione, le realizzazioni e gli adeguamenti apportati o da apportare all'edilizia scolastica. Un'edilizia che non può più prescindere da elementi quali la sicurezza, il risparmio energetico, la modernità e l'ecosostenibilità. Una mostra, quella della provincia di Potenza, in cui l'edilizia scolastica viene intesa in chiave assolutamente costruttiva, in cui la scuola diventa sinonimo di ecologia, sicurezza ed energia. Visitando la mostra si può comprendere quella che sarà l'attività dell'amministrazione nell'ambito del patrimonio scolastico, teso a rendere più sicure le scuole ma anche sostenibili e compatibili con l'ambiente e sarà possibile vedere i progetti che maggiormente rappresentano il raggiungimento di questi obiettivi, ma anche sarà possibile comprendere quelle che sono le attività concrete nei molti istituti scolastici attuati da questo ufficio e cui lavori sono in corso.